Nella valle scoppiò una salva di fucilate, un'altra. Erano pochi fucili insieme ma l'eco ne traeva un gran rumore. Lui era rimasto inchiodato in mezzo alla strada. Convulse ma deboli le sue mani cincischiavano il bottone della fondina. Ma poi notò che il partigiano non si era minimamente allarmato e dall'uscio della prima casa una vecchia chiamava dolcemente una coppia di galline dalla strada. Staccò la mano dalla fondina e si affrettò verso il partigiano che si era aggirato dalla sua parte e lo stava ad aspettare. Vista la faccia nuova fece per scendersi il moschetto dalla spalla. Allora Sergio tese una mano avanti e domandò forte c'è il comandante Marco? L'altro aveva il moschetto a mezzo braccio. Non lo rimise su né lo sfilò del tutto e quando Sergio gli fu davanti fece per cosa? Vorrei parlargli per arruolarmi se non è troppo tardi. Tu come fai a conoscere Marco? Per fama. Io vengo appena da Castagnole e di Marco se ne parla fin sull'altra riva di Tanaro. Il partigiano si rimandò il moschetto sulla spalla. Hai tabacco? S'aspettava del trinciato e non le nazionali che Sergio tirò fuori per lui. Disse questo è un altro fumare. Prese due sigarette e ne accese subito una. Adesso fumava, guardava avanti e pareva essersi dimenticato di lui. Sergio dopo un momento si voltò a vedere cosa poteva guardare quell'altro. Per la strada veniva una ragazza, camminava sul bordo e con occhi desiderosi guardava giù per il pendio per scoprire quelli che sparavano. Sergio si rigirò e gli disse allora mi dici dov'è che posso trovare Marco? In comune a quest'ora da audienza alla popolazione. Scansò Sergio e andò a incontrare quella ragazza. Sergio si inoltrò in paese e trovò facilmente il comune che era una casa qualunque coscritto sulla facciata municipio. Entrò, salì e si trovò davanti a tre porte. Bussò alla prima e poi l'aprì educatamente. Era una stanza vuota e polverosa con un certo odore di granaglie. Lo stesso gli capitò alla seconda porta e così aperse la terza senza cerimonie. C'era un tavolo e sopra una ragazza che fece appena in tempo a serrare le gambe e mandar giù le sottane. C'era pure un uomo ma voltava la schiena. Dai suoi movimenti Sergio capì che si stava abbottonando la braghetta. Poi si voltò e aveva la più bella faccia d'uomo che Sergio avesse mai vista. Portava una divisa complicata e impressionante, fatta mista di panno inglese, di maglia e di cuoio. Sergio si schiarì la gola e l'uomo increspò la fronte. La ragazza esaminava Sergio e nel mentre si passava una mano sui capelli che erano biondi, secchi e fruscianti come saggina. Sergio disse mi hanno mandato qui per trovare Marco. Marco sono io. Sergio istintivamente uni i tacchi ma con un minimo di rumore. Eppure un sorriso si disegnò piccolissimo all'angolo della bocca della ragazza. Sono venuto per arruolarmi se non è troppo tardi. Sei pelle arruolato, disse Marco. In quanto esser tardi non è mai troppo tardi perché anche se finisse domani sei ancora in tempo per starci ammazzato. Se ci si pensa il discorso dell'anzianità è il discorso più scemo che si possa sentire da un partigiano. Eppure da una parola in su tutti i partigiani ti sbattono in faccia la loro anzianità. Questo sembrò Sergio fosse rivolto più particolarmente alla ragazza che a lui. Infatti la ragazza sbatte le palpebre come per dargli ragione e cominciò a dondolare una gamba. Tu mi sembri studente, disse Marco. Sì, di che? Magistrale, seconda superiore. Ne terrò conto. Non c'è granché di studenti tra i partigiani. Poi Marco gli venne vicino. Gli sbottonò la fondina e uscì la pistola a metà. Fece con le labbra un segno di apprezzamento. Poi rimandò giù l'arma, lasciando a Sergio di riabbattonare la fondina. Disse hai fatto bene a venire già armato perché io non potevo darti nemmeno una scacciacani. D'alba siamo tornati con meno armi di quante ne avevamo. Quando ci siamo entrati questo è il fatto. Anche questo doveva averlo detto per la ragazza. A proposito, come ti dobbiamo chiamare? Lui si era scelto il nome di Raul fin dalla notte che gli aveva deciso di andare con i partigiani. Sapeva perciò come rispondere ma sentiva che niente gli poteva costare più vergogna che pronunciare quel nome, Raul. Così esitava e Marco dovette ripetere la domanda. Si fece forza e disse avevo pensato di farmi chiamare Raul ma con un tono come se non ne fosse ben sicuro. Poi aspettò che Marco e la ragazza scoppiassero a ridere. Niente gli pareva più giusto che scoppiassero a ridere. Invece Marco disse Raul. È un gran bel nome di battaglia. Credo che sia l'unico Raul in giro per le Langhe. La ragazza aveva fermato la gamba destra e messa in movimento la sinistra. Sospirò anche con una certa intensità. Allora Marco disse va bene. Sei dei nostri. Seconda divisione Langhe. Brigata Belbo. Gli altri sono giù in un prato a fare i tiri. Vacci anche tu e fai conoscenza. E mescolati. Dai retta a me. mescolati subito agli altri. Quando Raul uscì fuori sparavano sempre. Si orientò e giunse sul ciglio della collina. Si sporse a guardar giù. Cautissimo. Come se si piegasse su uno strapiombo. Ma tutto era perché voleva vedere non essere visto. Ma di lassù non vedeva niente per via di una gobba del pendio. Allora infilò un sentiero e lo scese fino a che pote scorgere i partigiani. Erano una trentina traiati su un sentiero trasversale a quello di Raul. E sparavano giù nella valle a quei cosi di cemento dove i contadini tengono a suo tempo il verde rame. Raul scese ancora e passò sul sentiero dei partigiani. Si avvicinava ad Agio. Che più ad Agio non poteva. Si sentiva molto peggio di quando era entrato per la prima volta in collegio. Adesso quelli si accorgevano di lui. Si trizzavano sui gomiti e gli gridavano tutti insieme. Sei un nuovo eh? E adesso che arrivi? Hai fatto con comodo eh? Sei in ritardo di dieci mesi in confronto a noi. Dove sei stato fino ad oggi? Nascosto in un seminario? Invece nessuno disse niente. Qualcuno lo guardò subito, altri lo guardarono poi e quando l'ebbero guardato tornarono a mirare quei cosi bianchi in fondo alla valle. Raul si sedette sull'urlo del sentiero e stette per un po' a fissare l'una o l'altra bocca di fucile per cogliere il momento che ne usciva la fiammata. Più tardi si azzardò a guardare le facce dei tiratori per trovarne una un po' umana. Non la trovò ma pensò che forse era perché nessuna faccia è umana quando appare concentrata dietro il congegno di mira di una qualsiasi arma. Si rialzò e con passo indifferente andò da una parte verso un albero. Ci si piantò di fronte, estrasse la pistola, l'armò e mirò lungamente il tronco. Il colpo partì ma Raul non avrebbe saputo dire se aveva o no premuto il grilletto e tanto meno dov'era potuto finire il colpo. Non ce n'era traccia sulla corteccia scura. Profondamente preoccupato rinfoderò in fretta la pistola. Uno di quei partigiani veniva dalla sua parte. Questo aveva una faccia umana ma quando incominciò a sorridere il suo sorriso era così pieno che appariva persino feroce. Fu il primo che gli parlò. Si faceva chiamare Sgancia. Era con Marco da quattro mesi ma altrettanti ne aveva fatte prima in Val de Lanzo. Con tutto ciò era appena della leva di Raul. Si sedettero insieme sul bordo del sentiero ma Sgancia scelse un posto non troppo vicino alla compagnia e dopo un accenno all'insensatezza di quella sparatoria che non serviva ad altro che a richiamare pubblica se ce n'era in giro dopo disse a Raul fammi un po' vedere la tua pistola. Raul gliela passò col presentimento che cominciava una faccenda che per lui finiva in perdita. Sgancia esaminò la pistola da ogni parte, la fece ballare sul palmo della mano e poi disse è una buona pistola ma è soltanto italiana. Se la posò sui ginocchi e dicendo la mia invece è tedesca, tirò fuori la sua e la mise in mano a Raul.